Unboxing cibo usa, nuove cagate C'è un bot di roba, veloce e panoramica Cibo usa, ricepizia 12 per pagare il 12% di meno Mai unboxare con i Miracle Blade, bambini, mai E non resta che assaggiarla adesso Peccato, perché causa? Mmm, sa super di cignia già sta roba Super uova di Dragon Ball, preso per la confezione ovviamente Sempre per l'aspetto esteriore, perché sono una persona superficiale E queste due caramelle, una forma di occhio e una forma di mostro Avremo il nostro momento chef, col mac and cheese in scatola Chaver, jalapeño, fromage, chissà, ma sarà piccante? Ma tanto non teniamo nulla, perché abbiamo le patatine Takis Eppure un lecca lecca al peperoncino Materiale pure per la rubrica, vogliamo bassi bassissimi Perché il packaging fa cagare Punte di cornetto al cioccolato Altra caramella, discutibile, ma mi intrigava E queste le ho viste ovunque su TikTok, quindi le ho prese Degustazione di caramelle Queste al marshmallow, all'anguria e al donuts Bibite che si sono salvate dalla furia del coltello Questa è una fantalluva cinese Un risi con le patatine Popcorn al Twix, che so già che saranno buonissimi Perché ho mangiato quelli all'Oreo Erano spaziali E poi le Pop Taps, che non ho mai mangiato E il vostro sogno di sempre si avvera Perché le metteremo nel forno a microonde Peccato per le Chupa Chups Super dolce, ma super ciliegiosa Buona E non è manco tanto gasata Nei commenti ditemi che cosa volete che assaggi per primo E non è manco tanto gasata